ciao ragazzi ciao eccoci qua sul canale eccoci di nuovo oggi Pimpos parliamo di prodotti di un ottimo rapporto qualità prezzo assolutamente anche perché ci siamo resi conto che non tutti i nostri clienti apprezzano o amano gli scarponi molto tecnici e molto performanti ma hanno magari bisogno di un prodotto un po più morbido quando lo si indossa dalle prestazioni sicuramente inferiori a quelli che possono essere i grandi nomi del mercato ma che ti permettono di giocare col piede asciutto col piede che traspira e protetto protetto da quello che è l'ambiente esterno perché aveva già fatto un video tempo fa sui vari tipi di anfibi di scarponi e parlavamo di una fascia molto bassa che non ti garantisce praticamente nulla contro le intemperie e da appena appena la protezione ecco quello è un prodotto che cerchiamo di ormai sconsigliare spendendo qualcosina di più sia molto molto di più e poi parliamo di prodotti Garsport esatto Garsport è un'azienda italiana che produce sia in Italia che nella comunità europea quindi un prodotto assolutamente europeo e è specializzata in scarpe sportive esattamente abbiamo scelto tre prodotti per stare su una fascia di prezzo diciamo tra i 70 e poco più dei 100 euro quindi molto meno rispetto alle marchi più blasonate ma come dicevamo tutti i prodotti con all'interno una membrana spero che si veda poi magari facciamo vedere bene comunque con la parte grigia una membrana che ha le caratteristiche come quelle più blasonate diciamo di evitare che l'acqua entri ma garantisce comunque una buonissima traspirabilità assolutamente quindi questo è fondamentale con questi potete giocarci anche sotto l'acqua va bene e il piede l'avete asciutto anche la mattina se vi trovate nei campi umidi classici delle mattine lo scarpone si inumidisce ma dentro il piede rimane asciutto vediamo velocemente i tre modelli questo si chiama Egypt dicevamo a una sola proprietaria un ottimo rinforzo qui davanti che mi piace moltissimo perché questo in genere la parte che si va a rovinare di più soprattutto quando siamo magari puntiamo il piede nel terreno per salire e quant'altro sono i punti maggior esatto di maggior frizione di maggior danno un bellissimo rinforzo qui davanti l'altezza non è molto alta è un'altezza media diciamo per rendere la scarpa comoda comunque molto leggera dicevamo sempre con la membrana e il colore decidete voi se vi piace 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 a lui piace secondo prodotto pin post come si chiama questo prodotto come si chiama? lo leggo perché non me lo ricordo l'unite? Stelvio molto prima di lui perché lui è un alfista quindi Stelvio alfista allora scarpa diciamo di una categoria leggermente superiore in pelle completamente in pelle con suola Vibram originale quindi uno step in più di quella assolutamente mantiene le caratteristiche di diciamo flessibilità della suola e di torsione della scarpa che permettono allo scarpone di essere comodo anche perché l'altezza non è troppo elevata quindi un scarpone molto comodo ma di una fattura per chi piace un po' lo stile scarpone classico o scarpone da caccia assolutamente molto bello anche questo assolutamente l'ultimo l'ultimo che questo qua che io come sempre non ricordo mai come si chiamano sono i force sono preparatissimo e questo ha la stringatura oltre le caratteristiche che abbiamo visto qua quindi la sua membrana suola in Vibram ottima la torsione ottima anche quando appoggi se c'è una superficie un po più dura e sconnessa ti permette di appoggiare bene il piede e rimane comodo hai la possibilità stringatura e per come dice sempre Merlin per i più pigri per i più pigrici c'è anche la zip c'è la zip ottima per chi gioca anche in urbano quindi all'interno di strutture perché la costruzione molto come dire robusta ti permette anche di picchiare il piede ovunque senza farti male assolutamente e come prezzi diciamo andiamo a salire in questo momento siamo a circa 70 euro questo 69 euro 99 109 questo in questo momento diciamo in questo momento perché non sappiamo quando a settembre faremo un ressortimento se ci manterranno e potranno mantenere gli stessi prezzi visto i vari aumenti di cui ne abbiamo ampiamente parlato assolutamente ok ragazzi qualsiasi domanda scrittela pure qui sotto se volete provarle venite qui da noi a Gaggiano a provare la vostra misura e sicuramente rimarrete soddisfatti di questi prodotti ok ragazzi alla prossima alla prossima ciao